oggi siamo in compagnia del signor sindaco di fubine e deputato lino pettazzi ci troviamo qui per rivolgergli alcune domande su come un comune possa gestire una o più chiese perché un comune dovrebbe prendere in gestione una chiesa? La ragione principale sta nel fatto che le curie abitualmente non hanno fondi da investire per questo tipo di immobili pur essendo di loro proprietà non ci sono appunto questi fondi quindi è bene che se ne occupino le amministrazioni comunali dei territori questo abbiamo fatto noi già a partire dal 2004 quando la curia di Casale ci donò queste due chiese e una delle due eravamo riusciti nell'arco di pochissimi anni a trasformarla in un bel teatro che ritengo essere uno dei più bei teatri del Monferrato. Che cosa si potrebbe fare di un edificio religioso sconsacrato? Sì sempre rimanendo nell'ambito culturale gli locali possono essere adibiti a tantissime cose quindi a mostre piuttosto che anche sede di archivi storici che è quello che volevamo fare noi a suo tempo per la seconda chiesa o biblioteca quindi diciamo che gli ambiti sono questi ma ce ne sono anche tanti altri quindi un locale polivalente dove poter fare delle mostre sia di di pittura che di scultori importanti noi qua in zona ne abbiamo veramente di importanti e l'abbiamo già adibita nonostante abbia la destinazione a teatro l'abbiamo già adibita più volte a mostre e quindi diciamo quello è l'ambito in cui senz'altro penso che tutti pensino diciamo di sfruttare questi tipi di immobili. Cosa sarebbe di questi edifici se qualcuno non se ne prendesse carico? Beh noi ne abbiamo avuto la testimonianza riguardo alla seconda chiesa quella della Trinità che non avendo avuto manutenzione nel tempo ha visto crollare il tetto e ha visto anche i muri diciamo a non presentare più la sicurezza che avrebbero dovuto avere quindi se nel tempo non viene fatta la dovuta manutenzione è evidente che questi immobili sono destinati a crollare quindi andremo a perdere un valore inestimabile di questi immobili. Che cosa può fare un comune al fine di valorizzare il territorio dal punto di vista artistico e culturale? Beh così come tante altre opere che ci sono sui nostri territori quello delle chiese che sono tantissime ogni comune ne ha veramente molte potrebbe tranquillamente rientrare in un percorso di turismo religioso che oggi sta prendendo piede così come tante altre forme di turismo però sappiamo che oltre al turismo enogastronomico esistono tante forme di turismo quindi quello legato alla cultura a 360 gradi comprende sicuramente anche questi patrimoni bellissimi che abbiamo sui nostri territori. Ringraziamo il sindaco di Fubine per il lavoro che sta svolgendo in questa direzione e per il tempo che ha voluto dedicarci. Grazie. Grazie. Grazie.